Questa dunque è la situazione e la protesta di questa mamma. Con noi c'è l'assessore allo sport del Comune di Fano, Caterina Delbianco. Buonasera, assessore, grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito per far chiarezza soprattutto per queste decine e decine di utenti che hanno subito dei disagi in questi ultimi giorni. Ecco, perché è successo questo? Sì, ho tenuto importante essere qui stasera perché va spiegata alla popolazione i disagi che ci sono in questi giorni che secondo me ci saranno anche nei prossimi giorni e l'utenza poi della piscina non è solo questi numeri ma si tratta di un 2000 persone a settimana che frequentano la nostra Dini Salvalai quindi è importante seguire bene le vicende in questi giorni. L'attuale gestione della società Sport Management di Verona termina domani, domani compreso e la società attuale gestore di Verona non ha ripartecipato al bando quindi ha pensato bene di cominciare lo smontaggio degli oggetti di loro proprietà quindi le panche che citava la signora e anche i phone questo è un tema un po' a cavallo perché sono comunque oggetti di servizio per mantenere la piscina comunque ho precisato con la società di Verona di mantenere il servizio assolutamente fino al giorno 31 cioè domani perché la loro intenzione era di smontare un giorno prima questo non l'ho permesso. Ecco che cosa succederà però dal primo di aprile? Allora dal primo di aprile io avviso già all'utenza che ci saranno dei giorni di disagio quindi dei giorni di chiusura della piscina perché è inevitabile con il passaggio di gestione che la società che sarà il nuovo gestore della piscina dovrà entrare, sistemarsi, rendere accogliente. Quanto tempo resterà chiusa la piscina? Io prevedo, ma sono cauta, sicuramente il weekend è questo, dei primi di aprile e già da lunedì 4, lunedì 5 avremo il nuovo gestore che se sarà del centro Italia ci metterà i giorni che ha necessità. Comunque c'è un bando che è stato fatto, sono 4 le società che partecipano a questo bando domani verranno aperte le buste e quindi si saprà chi è il vincitore e quindi chi prenderà in gestione questa piscina. Poi ci affideremo alla velocità del nuovo gestore di rendere il servizio il prima possibile io però mi scuso notevolmente per i disagi perché purtroppo i vari ricorsi al TAR del passato hanno portato la scadenza in piena attività sportiva il 31 marzo e con l'attuale gestore non c'è stata possibilità di valutare qualsiasi giorno in più loro non avevano più piacere di continuare la gestione e quindi siamo in pieno cavallo d'anno, mi rendo conto cercheremo di sbrigare le pratiche future nei giorni... Comunque diciamo che dal primo di aprile la piscina resterà chiusa poi si vedrà nei prossimi giorni, naturalmente vi terremo informati poi basterà andare nel sito del Comune di Fano anche... Sì, e useremo anche Fano TV assolutamente Fano TV chiaramente per gli aggiornamenti Grazie Assessore Del Bianco Noi andiamo avanti con il telegiornale